ciao a tutti ragazzi ciao a tutte ragazze benvenuti e bentornati sul mio canale oggi sono tornata con un video frivolo un video consueto quello in cui vi parlerò dei prodotti che ho preferito maggiormente utilizzare durante questo mese di aprile ormai il mese di aprile è quasi terminato e è stato un mese particolare perché comunque sono stata assente per un po di tempo quindi ho utilizzato dei prodotti anziché altri insomma e devo dire che durante questo mese ho dato priorità tantissime cose che avevo aperte ci sono state delle scoperte di cui voglio parlarvi quest'oggi ma sono delle scoperte che riguardano soprattutto la skin care e l'air care devo tra l'altro dirvi che per questo mese ho scelto soltanto 9 prodotti anziché 10 ecco perché ritenevo giusto insomma inserirvi soltanto i prodotti che ho preferito maggiormente utilizzare ecco di cui vi voglio parlare vi dico già che ho durante diciamo questo video non ci saranno accenni a prodotti per la body care perché durante questo mese ho portato avanti veramente parecchie cose che avevo in uso già da un po di tempo alcune di queste cose insomma ho venuto già parlato in passato e quindi non ritenevo opportuno inserire alcun prodotto detto ciò direi subito di iniziare vorrei iniziare dalla categoria del make up che la categoria di cui ho scelto più prodotti infatti ci sono cinque prodotti di cui voglio parlare di questo oggi il primo prodotto di cui voglio parlarvi in realtà è una combo ed è una combo labbra è quella che ho su oggi e è una combo composta da questa matita labbra di del beauty e questo gloss di review ti entrambi sono nella numerazione in early neutral e sono due prodotti che io ho acquistato un po di tempo fa da spese in che venivano proprio venduti in questo set e inizialmente era un po scettica per il colore perché io in passato non ho mai utilizzato tonalità che virono sul verso diciamo il marrone il nocciola e devo ricredermi perché durante questo mese di aprile io ho utilizzato tantissimo questa combo devo dire che mi è piaciuto un sacco e la matita è creon all'epro matt è proprio una matita matt sia nella stesura ma anche nel finish vedete non è assolutamente sarinata o cremosa bensì è una matita matt mi piace tanto perché scrive molto bene ed è una matita che io non utilizzo solo ed esclusivamente per delineare i bordi delle labbra ma proprio a mo di rossetto e poi su questa matita io vado sempre ad applicare questo gloss che più che glosce c'è lascia un effetto gloss come un vero e proprio un balmo quindi un balsamo lascia delle labbra morbidissime spesso mi capita di indossarlo per varie ore poi ovviamente vado a riapplicarlo ma vi posso garantire che la sensazione che lascia sulle labbra è veramente di labbra lucide rimpolpate e cremose mi piace veramente tanto questa combo è un altro prodottino di cui voglio parlarvi che è un prodotto insomma che ho già da un po di tempo ma negli ultimi mesi ho utilizzato veramente tanto con costanza è un prodotto per il viso ed è questo prodottino qua di charlotte il buri spesso si diciamo si tende a utilizzare le novità si tende a dare foga diciamo alle ai nuovi acquisti e spesso capita appunto per questo motivo di dimenticarci un po di delle delle cose che abbiamo nei cassetti e devo dire che durante questo mese di marzo ma anche durante il mese di aprile quindi già durante il mese di marzo me ne volevo parlare ma poi diciamo ho evitato ma devo dire che durante questo mese di aprile io ci ho dato veramente dentro e ho utilizzato tantissimo questo prodotto tant'è vero che ve ne voglio parlare questo oggi questo qui secondo me è un ottimo prodotto in crema per il viso e sto parlando del beautiful skin sanchiste glow bronzer che io possiedo nella tonalità uno fair pelle ed è una tonalità fredda che io ho amato tantissimo come già ho detto nel mese di febbraio ma anche marzo ma durante il mese di aprile io l'ho veramente utilizzato tantissimo dopo l'applicazione del fondotinta prima di settare il viso andavo con la parte con il retro della blender a mettere un po di questo prodotto così da iniziare a creare delle ombreggiature sul viso è un prodotto fenomenale perché si fonde proprio con la pelle e si sfuma veramente in pochissimi secondi questo qui è un prodotto che secondo me può essere veramente utilizzato da chiunque da da qualsiasi persona e non c'è bisogno di essere delle mega parties per utilizzare questo prodotto veramente un prodotto valido sicuramente nei mesi estivi lo metterò da parte e lo sostituirò con prodotto un po più caldi però devo dire che per questi mesi invernali ma soprattutto per questi mesi di transizione perché comunque siamo ancora chiare non abbiamo ancora preso abbronzatura questo qui è un prodotto fantastico intenzione di provare di questa tipologia di prodotto anche altri altre referenze di altri marchi però devo dire che questo qui è stato uno dei primi prodotti in crema che io per personalmente acquistato soprattutto per quanto riguarda la categoria dei bronzer e ad oggi mi piace ancora tantissimo ecco quindi non lo andrei a sostituire ad altri prodotti poi un palette di cui vi ho fatto una testa così e questo oggi ve ne voglio di parlare è una palette che tra l'altro questo oggi ho utilizzato sugli occhi e pensate che questo look ce l'ho da stamattina le 5 e mezza adesso sono per la precisione le 19 e 23 e io ancora questo look occhi così sparkling bellissimo la palette che ho utilizzato probabilmente alcune di voi già l'avete indovinato è la cosmo palette di anastasia per chi è qui già da un po di tempo sa sicuramente che io ho ricevuto questa palette con una cialda rotta che tra l'altro la super cluster ed è una delle cialde assolutamente più delicate della palette nonostante sciò io ho cercato insomma di ricompattarla e la sto utilizzando con un successo in assoluto tra tutte e quattro le palette di anastasia queste qui questa è la mia preferita non ve la mostro così perché ho paura che cade il prodotto però come potete vedere una palette che utilizzato tantissimo questo oggi in particolar modo utilizzato questi due ombretti qui sfumati nella piega ho intensificato questo marroncino scuro nella parte esterna e poi ovviamente utilizzato questo ombretto qui sulla palpebra mobile è una palette stupenda che regale veramente delle grandissime emozioni che potete utilizzare veramente per tantissime occasioni sia per look quotidiani ma anche per look più particolari ecco secondo me è una palette che può essere utilizzata a differenza non so ad esempio della for romance o della nuvo palette che sono delle palette più invernali e autunnali questa qui è tra tutte e quattro quella che può essere veramente utilizzata un po tutto l'anno soprattutto secondo me nel periodo estivo quindi io continuerò ad utilizzarla in perterrita anche in primavera e in estate una palette bellissima delle polveri super performanti qualche cialda spolvera più di altre ma questa è una caratteristica proprio delle polveri di anastasia nonostante ciò secondo me non è diciamo un problema ecco perché comunque gli ombretti performano molto bene poi quarto prodotto makeup è un prodotto di cui in realtà io già il mese di marzo ve ne ho parlato e sto parlando di un prodotto per il viso durante il mese di marzo io questo prodotto qui l'ho amato alla follia l'ho utilizzato veramente tutti i giorni l'ho inserito poi anche nel progetto smaltimento motivo per il quale lo sto utilizzando costantemente tutti i giorni e ho deciso di inserirlo anche in questo video dei prodotti preferiti del mese di aprile perché è in assoluto il prodotto per la base che utilizzato tutti i giorni sto parlando del rivi da lessen skin glow foundation di sciseido io ho topato con la colorazione ma nonostante ciò devo dire che avendo comunque una texture molto leggera riesco a farlo per formare bene sul viso mi piace tantissimo a una texture molto molto sottile quindi si lascia proprio utilizzare e si fonde con la pelle mi piace tanto va a uniformare l'incarnato ma non va a coprire delle discromie o servire delle grosse imperfezioni io lo utilizzo con piacere perché per fortuna non ho delle grandi problematiche come vedete lascia un effetto luminoso che però non è un effetto patatina fritta bensì è un bellissimo effetto di pelle radiosa secondo me ed è una delle caratteristiche che mi piace di più di questo prodotto è assolutamente un prodotto promosso per chi ha una pelle secca una pelle misto secca assolutamente un prodotto no perché ha una pelle grassa una pelle mista quindi se avete una pelle che rientra nelle ultime due categorie che vi ho citato assolutamente non acquistate questo prodotto se invece avete una pelle secca una pelle problematica una pelle tendenzialmente agee questa qui è veramente una una referenza da provare con fondotinta fenomenale io lo amo alla follia vi dico l'ho inserito nel progetto smaltimento per il fatto che comunque non è proprio nella scelta perfetta per me ma intenzione poi una volta terminato di andarlo a riacquistare infine ultimo prodottino make up è un prodottino super low cost e voglio parlarvi di queste matite labbra di dragon renee che è un brand che viene rivenduto sul sito di temu io lo sapete collaboro con temu da tantissimo tempo e ovviamente mensilmente mi vengono mandate delle cose che io personalmente scelgo di cui poi ovviamente vi parlo positivamente o negativamente e tra le varie cose make up che io negli scorsi mesi ho acquistato devo dire che queste matite le sto utilizzando tantissimo tant'è vero che di recente ne ho acquistate altre probabilmente le avete già viste probabilmente le vedrete prossimamente comunque sono fantastiche non hanno niente a che vedere da invidiare a matite molto più costose sono delle matite waterproof quindi le voi le applicate e rimangono lì ferme possono essere utilizzate come matite soltanto per delineare i bordi ma anche a modi rossetto mi piacciono tantissimo io qui ho la numero sei la numero otto che adesso vi mostrerò ma vi ripeto presto o se non l'avete già visto vedrete anche altre colorazioni perché le ho prese praticamente tutte su temo costano pochissimo credo intorno ai due euro in ogni modo vi lascio il link del del prodotto in infobox e soprattutto vi lascio anche il mio codice sconto se volete approfittarne ovviamente io non ci guadagno però è un modo per voi per avere un piccolo sconto ecco perché utilizzando il mio codice sconto che ha pk 12 909 avrete a check out uno sconto del 30 per cento quindi se si può risparmiare a me fa piacere insomma darvi questo codice ecco in ogni modo queste matite sono fantastiche e ve le faccio vedere sbocciate le utilizzate tantissimo ma sono così belle e cremose ma allo stesso tempo si fissano quindi per me sono veramente delle matite stupende allora vi mostro la numero sei che questo malva qui stupendo e la numero otto che invece questo bellissimo color mattone due matite bellissime le utilizzo veramente tantissimo nel quotidiano mi piacciono tanto e sono molto contenta di averle acquistate e di farvele vedere perché se per caso insomma avete la possibilità di acquistarle provatele fatemelo sapere perché secondo me sono veramente ottime passiamo adesso alla categoria delle care di cui ho soltanto un prodotto di cui voglio parlarvi ed è un prodottino di maroccan oil io in passato di questa linea maroccan oil ho già provato maschera per i capelli che era un trattamento intensivo idratante ho provato lo shampoo e il balsamo e tra le varie cose che possedevo avevo anche quest'olio questo qui è un olio sia termoprotettore perché va comunque a proteggere i capelli dalle temperature alte del ferro della piastra eccetera eccetera ma è proprio un olio nutriente per i capelli ha una profumazione paradisiaca questo qui che mi ricorda tantissimo l'estate ma oltre alla profumazione devo dire che proprio un olio che io amo applicare i capelli ne applico veramente una piccola quantità lo vado bene a districare insomma sulle lunghezze e devo dire che mi lascia dei capelli lucenti e luminosi per vari giorni veramente un bellissimo olio nutriente per i capelli non è un olio che non è un olio che appesantisce il capello è veramente un prodotto ottimo e quindi un prodotto due in uno perché va sia a proteggere i capelli ma ma anche a nutrirli veramente un prodotto fenomenale o qui ho un formato da 25 ml che vi mostro ma potete tranquillamente acquistarlo sull'occo fantastic infine ultima categoria di cui ho alcune referenze di cui voglio parlarvi questo oggi ovviamente la categoria della skin care il primo prodotto skin care di cui voglio parlarvi è un prodotto che ho scoperto grazie alla mia amica barbara che saluto ovviamente mando un bacio ed è questo prodottino di s loader dico lo scoperto grazie a lei perché grazie a lei che aveva appunto condiviso su un gruppo a cui faccio parte una bag di s loader io ne ho approfittato e ho scoperto conosciuto questo prodotto ovviamente l'ho acquistata anch'io questa bag e tra i vari prodotti che c'erano all'interno c'era appunto questo advanced night repair ai super charge gel cream un prodotto molto conosciuto del marchio un prodotto però di cui io non avevo mai provato in passato ho provato tantissimi prodotti di s loader per quanto riguarda la skin care sono tutti i prodotti che io in passato ho amato tantissimo soprattutto la linea supreme e ho amato tantissimo anche questa linea advanced soprattutto per quanto riguarda il detergente viso il siro veramente dei prodotti fantastici questa crema mi incuriosiva tanto e devo dire che durante questo mese di aprile l'ho utilizzata tantissimo e dopo diciamo già una settimana ho visto un grosso miglioramento nell'area del contorno occhi questo qui è veramente un prodotto fantastico la situazione attuale questa sembra quasi nuovo ma vi posso garantire che l'ho utilizzato tantissimo si presenta come quasi un gel trasparente idratante io ne applico veramente una puntina e lo massaggio nell'area del contorno occhi è fantastico perché distende proprio l'area e già dopo 45 applicazioni vedete proprio il contorno occhi molto più disteso soprattutto se avete delle secchezze o dei segni dell'età lascia proprio un effetto proprio di pelle rimpolpata di pelle molto più elastica veramente un bellissimo prodotto io credo di aver trovato il contorno occhi della vita so che comunque un prodotto che costicchia ma spesso e stelo der viene scontato anche su look fantastic spesso viene trovato in sconto ed è un prodotto che secondo me ne vale la pena poi tenendo conto che ci vuole veramente una pontina di prodotto per applicazione questo qui un prodotto che vi durerà tantissimo ve lo faccio vedere un prodotto veramente bellissimo un'altra referenza di cui voglio parlarvi quest'oggi che ho amato tanto durante il mese di aprile e questo ss ialuronics serum ed è un siero all'acido ialuronico idratante di caudali di questa linea vino source ha già ho provato e utilizzato terminato anche la crema idratante il giorno quella lì sì mi è piaciuta ma non è una diciamo una crema che mi ha veramente sconvolta al contrario invece il siero mi è piaciuto tanto già dopo un paio di applicazioni avevo proprio una sensazione di forte idratazione sulla pelle mi è piaciuta tanto la profumazione è un no per me viene consigliata di applicarla sia al mattino che la sera io sinceramente la utilizzavo solo ed esclusivamente durante la skin che era mattutina mi è piaciuta tanto è un siero leggero idratante non geloso ecco più lattiginoso come texture molto molto bello veramente un prodotto idratante e infine il nono prodotto ultimo prodotto di cui voglio parlarvi è questa mousse di dottor barbara storm sapete che io amo tantissimo le mousse detergenti la mia preferita in assoluto è quella di nux che compro e ricompro sempre questo prodottino qui che appunto una mousse detergente per il viso era presente all'interno del calendario dell'avvento dello scorso anno che mi è stato regalato dal mio compagno e grazie a quel calendario devo dirvi la verità io ho scoperto tantissimi prodotti prodotti molto validi di cui mi sono follemente innamorata come ad esempio il burro struccante di pharmacy anche di quello vi ho fatto una testa così e vi farò sicuramente una testa così anche di questo detergente qui ha veramente una texture che sembra panna montata io di solito faccio due pump sono sufficienti più sufficienti per andare a detergere tutto il viso a una texture schiumosa ma allo stesso tempo deterge molto molto bene il viso leggera ma allo stesso tempo profonda come azione ecco un prodotto molto molto valido mi è piaciuto tanto ecco lo sto utilizzando con piacere sicuramente lo utilizzerò e ve ne parlerò ancora tanto ecco un prodotto promosso è stata una bella scoperta e quindi me ne volevo parlare ecco e con questo è tutto questi sono stati quindi i 9 prodotti che ho preferito maggiormente utilizzare durante questo mese di aprile spero che questo video vi sia piaciuto nonostante ci sono stati molti prodotti riconfermati ecco e quindi non solo novità ecco ma secondo me dal mio punto di vista comunque è bello a volte anche goderci i prodotti che abbiamo e non correre sempre dietro alle uscite alle novità e quindi fare sempre acquisti in modo compulsivo ecco è bello anche ravanare nei cassetti ripescare prodotti che già si possiedono perché comunque abbiamo dei gioielli io lo dico sempre e con questo è tutto vi ringrazio se siete arrivati fino a qui vi mando un grosso bacio spero di avervi fatto come sempre una buona compagnia se ancora non l'avete fatto io come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video ciao a tutti ciao